Si dice che il PIL non sia adatto a misurare i nostri progressi verso un'economia realmente sostenibile. Secondo lei esistono indicatori più completi e come andrebbero concepiti? C'è un problema dove questa misura non è adattata. La GDP è una misura di produzione, di markete attività. È una misura di markete attività che ha i defecti, dei defecti che sono conosciuti dal principio del lanciamento del sistema di fondamentale. Ma questa misura ha la sua importanza, perché lo sappiamo è che l'employmenta dipende davvero di GDP. La GDP è una produzione di grossi. Quindi la GDP non ci dice molto del fatto di sapere se stiamo diventando riuscire o non. Siamo che la produzione aumenta. Ma, per esempio, dopo un'economia, la produzione aumenta. Ma questo significa che le persone sono riuscire? Certamente non, perché hanno perduto quasi tutto nel'economia. Dopo una guerra è la stessa cosa. Quindi, il problema è che il nostro sistema di fondamentale contiene altre misure che sono vicino alla preoccupazione della popolazione. Per esempio, il prodotto nazionale. e il prodotto nazionale. Se avete un prodotto nazionale, si avete un prodotto nazionale, ci saranno sottolineare tutto che ha stato distruttato nel processo prodotto o tutto che ha stato distruttato da l'economia, per esempio. e non ci saranno sottolineare la stessa impressione che avete quando stanno mesurando il prodotto e non il prodotto nazionale. Ma, meglio di questo, dovrebbe avere una misura che si tratta di più alla normalità, il prodotto nazionale. Il prodotto nazionale. è un prodotto nazionale. Ma, anche se questa misura non è usata. Ci siamo tutti parlando del GDP. C'è perché le giornalisti non sono interessati a parlare del prodotto o del prodotto nazionale invece di prodotto nazionale. Il prodotto non è interessante per il prodotto nazionale ma che è interessante a l'economia è quello che ha fatto in casa. Secondo, il prodotto nazionale che il GDP è afflato con alcuni problemi che diventano oggi più e più complicate perché della tecnologia evoluzione e della hanno una struttura rapidamente cambiata della struttura della nostra habitazione e della nostra consumazione. Per esempio, la maggioranza del prodotto viene da un aumento in qualità non un aumento in quantità. che abbiamo definito per qualità per prodotti fisici come un computer o un car ma che non vediamo ma non vediamo qualità per servizi e non vediamo la produzione di servizi servizio. Ciò facciamo è basicamente mesurare la produzione del governo come l'expandione e questo lede a false deduzioni per esempio sappiamo che che gli Stati spazano più di 50% del GDP per salute significa che l'Italia spazano 9% significa che secondo che sia il il GDP come calcolato in USA e in Italia sarà più 6% in Italia ma questo giusto? No perché sappiamo che la salute in USA non non bene ma è meglio in Italia se correttiamo questa differenza nella salute la differenza tra la differenza per capitale in USA aumenta per un terzo solo per mesurare la salute immagini cosa può essere il risultato se correttiamo la mesurazione di molti altre produzione che non sappiamo come mesurare ma ma usando cost expenditure per esempio la scuola sistema per esempio anche le servizi given per infrastrutture che existano nel sistema quindi è completamente diverso se ha un buon sistema di autostrade ma se ha un buon sistema e sicurezza non come mesurare sicurezza come che facciamo che cosa la sicurezza la la sicurezza la sicurezza sicurezza la violenza aumenta la sicurezza sa sicurezza la sicurezza perché bisogna altre mesurazioni non per rispare GDP perché è importante soprattutto per mesurare l'amplio 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 e l'amplio 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 colol l'amplio l'amplio che sia tre per essere aware che puoi prendere alcune mesurazione che contribuono a aumentare il GDP, ma a diminuire la qualità di vita. Deve un governo abbastanza in una polizia che riduce la qualità di vita, mentre aumenta il GDP? La risposta è ovviamente no. Per esempio, in measuring la qualità di vita, ci sono alcuni obiettivi, come la salute, l'educazione, la relazione sociale, la sicurezza economica e la sicurezza fisica. La qualità di vita depende molto, depende molto, sulla sicurezza economica. La sicurezza economica. Puoi, per esempio, immaginare un mondo dove puoi aumentare il GDP, per eliminare tutti gli obiettivi per incontrare le persone. Quindi, hai un mercato completamente flexibile. in un mercato. Quindi, magari il GDP va aumentare, magari. Non sono sicuro di questo, perché non c'è nulla dimostrazione, a tutto, che questo avrebbe avuto un aumento del GDP. Assumiamo che il GDP ingresa del GDP, ma la sicurezza di sicurezza. non c'è nulla dimostrazione, ma la sicurezza di sicurezza di sicurezza. nel GDP, ma la sicurezza di sicurezza di sicurezza di sicurezza. E non c'è nulla dimostrazione, ma la sicurezza di sicurezza di sicurezza di sicurezza di sicurezza. senza sapere qualsiasi investimento ottenere avanti. E questo è stato l'attento che abbiamo fatto con il Barilla Centro di gruppo per creare questo indicatore di felicità ma preferisco chiamare la qualità della vita, la qualità della vita, la qualità della gente per esempio, e per comprare questo factor tra i paesi e per mettere qualche peso sulle altre factor che abbiamo considerato in questo caso, come con un'index che rappresenta il well-being in ogni paese. E il terzo factor che è molto importante è la sostenibilità. La sostenibilità è definita come un processo dove dove hai avuto il futuro il capital almeno è stato di più importante come quello che hai avuto. Ma il capitale deve essere capito in grande sensazione. Capitale significa non solo economica, ma anche humana e ambientale, naturalmente. E se la sostenibilità è importante, è perché un processo che non è sostenibile è un processo che fa a crisi. La crisi che stiamo in ora è provata che il processo di crescita che avevamo prima non è sostenibile. E non è sostenibile per questo motivo. Perché stavamo consumendo capital, stavamo riducendo capital, stavamo in attenzione, credendo che il prezzo dell'assetto era sufficientemente alto per la nostra crescita in attenzione. E inizialmente il prezzo dell'assetto colapsa e abbiamo scoperto che siamo pochi. E questa è la crisi. Quindi, per evitare una crisi, abbiamo bisogno di guardare la sostenibilità. Inoltre, abbiamo sempre avuto una crisi. Abbiamo avuto una crisi economica, perché non avevamo un'indicatore di sostenibilità, anche nella dimensione economica. Quindi, la crisi che abbiamo è una crisi, ma è nulla, come compare con la crisi che possiamo avere se non prendermi le risorse naturali. Perché, magari, prenderà un paese per rinforzare il capital natural che abbiamo consumato senza prendermi le risorse di dare una possibilità alla natura per la rinforzare. La ringrazio, Professor Fitussi. Va bene.